Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Se siete qua sono sicuro che vi interessa anche la review di Miki Italian, per cui recuperatela se non l'avete ancora vista, perché comunque se avete interesse per Abraham sono sicuro che Miki Italian possa interessarvi. Vi raccomando lasciate like se vi piacciono queste review, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e fatemi sapere chi altro vorreste che analizzassi, magari anche sempre del team 1 o del food birthday che abbiamo sempre analizzato venerdì. Ma partiamo innanzitutto dal presupposto che la carta in questo caso va considerata secondo me leggermente differentemente dal solito, perché è una carta obiettivo, è gratuita, la potete sbloccare tutti quanti e non è un SBC che dovete acquistare e ottenere pagandola dal mercato o dai pacchetti. Di conseguenza c'è da vedere quanto è complicata l'obiettivo. Io l'ho sbloccato ovviamente perché poi lo sono andato a provare. L'obiettivo come impegno vi richiede vincere 4 partite in amichevoli food live food birthday. La carta poi la vediamo lì di fianco, dovete vincere quindi 4 partite in amichevoli, fornire 8 assist con giocatori della serie A, quindi dovrete fornire 8 assist. Notate poi che oltre al pacchetto oro vi dà anche un Sierich gettone food birthday, quindi ottenete anche un giottone sbloccando questo Abraham. Segnare con un attaccante in 5 partite differenti, quindi un qualunque giocatore nella posizione ovviamente di attaccante e segnare con giocatori inglesi in 10 partite differenti sempre in questa amichevoli e vi darà comunque 4 pacchetti, Abraham e un token. Richiederà circa 10 partite se mettete come attaccante un inglese come per dire trequartista, un giocatore della serie A e considerate che richiede comunque veramente poco tempo perché la gente è molto predisposta a quittare se prende gol, quindi nel momento in cui proponete pausa su 5 avversari si state nominando, tre vi quittano. Di conseguenza se segnate per primi in breve questo può accadere e accelera di tantissimi i tempi di unlocking. Io personalmente ci ho messo un 45 minuti e una retta al massimo per sbloccarlo. Passiamo però a parlare appunto di Abraham e vedere com'è innanzitutto off-game, quindi guardiamo assieme le statistiche. 5 massabilità, 4 piede debole. Qua avete già qualche statistica, 11 partite, 18 gol e 4 assist, ovviamente io l'ho overtraiato perché quando li provo li testo, li overtesto quasi sempre perché mi interessa esagerare per vedere fin dove si possono spingere. Sulla carta, quindi escludendo tutto quello che ho capito dopo averlo testato, ci si può aspettare un giocatore che corra perché 93 accelerazione, 92 scatto, è comunque un'ottima velocità scatto e di accelerazione e non necessita magari sulla carta per forza cacciatore perché comunque cacciatore lo porta a 99-99 ma falco, motore e tutti gli altri generi di potenziamenti alla carta gli portano comunque insomma un miglioramento alla velocità di 5-5 portandolo comunque a 98-97 quindi la differenza in minima poco cambia. Poi a livello di tiro è già comunque un ottimo tiratore perché 90 è posizionamento offensivo con 92 finalizzazione e 91 in potenza tiro sono assolutamente buoni. Dovrebbe essere un giocatore in grado di finalizzare pressoché tutto però solamente col destro perché poi ha 3 di piede debole quindi il mancino così così. Dovrebbe essere bravo a inserirsi ma il giusto perché ricordiamo che come workout il rendimento c'è normale normale e non dimentichiamoci oltre che del 5 stelle skill anche il 1,96. Dalla distanza così così perché non c'ha molto effetto quindi non aspettatevi un gran che di tiro a giro non ha neanche trades quindi sicuramente tira a giro non li cercherai molto spesso se non che per finalizzare in area di rigore quindi quelli proprio semplici semplici semplici. In termini di passaggio niente di che visione passaggio corto poi il resto è pressoché defecante qualcosina al cross ma una carta insomma non di impostazione sicuramente di passaggi complicati o di regia di manovra non può fare sicuramente la boa che imposta. A livello di dribbling sembra tutto bene perché ha tutto da 91 in su ricordiamo però che è 1,96 quindi poi bisogna vedere come si applica in funzione della sua altezza, il suo body type e le statistiche effettivamente poi in game come si comportano ma sulla carta sembra essere un giocatore veramente affidabile dal punto di vista della gestione del pallone al piede e del dribbling. Sembra essere anche freddo, molto reattivo e forte fisicamente se realisticamente regge così dovrebbe essere inamovibile cioè un giocatore con 90 di forza fisica 1,96 dovrebbe cavarsela bene, non tanto aggressivo quindi un giocatore che magari non è andato a un po' attaccare per togliere il pallone e resistente il giusto secondo me verso fine secondo tempo e i supplementari potrebbe partire un'elevazione decente però con 1,96 e 90 di precisione di testa quindi nel complesso una carta comunque molto completa, becca nei passaggi da vedere se meglio fa il comotore o se qualcos'altro insomma non gli mettere il cacciatore perché mi sembra sprecato tra falco e motore secondo me poi andiamo a vedere in game come si comporta questa è la squadra che userò per testarlo Miki Italian trequartista che avete visto nella review uscita ieri o l'altro ieri Torreira e anche di Lorenzo ne ho parlato nella review di Miki Italian e ne ho parlato anche sul canale IPLB e poi vabbè insomma gli altri li avete già visti perché li ho testati mille volte ma adesso parliamo di com'è effettivamente questa carta in game quindi quali sono i pro e i contro, come si comporta, se ne vale la pena, perderci tempo e così via solite robe allora se dobbiamo parlare dei pro sicuramente ci metterei la sua capacità finalizzativa se dobbiamo andare a vedere com'è di destro in termini di finalizzazioni in area di rigore segna sempre che sia giro, che sia di potenza è veramente molto affidabile, segna veramente tanto è un giocatore che comunque quindi riesce a segnare un gran bel numero di gol e di regalare un gran bel numero di emozioni al punto di vista finalizzativo dirà anche abbastanza bene al volo è affidabile anche sui pallonetti tiro giro in area al giusto perché poi da fuori area niente di che ed è anche molto preciso nella finalizzazione dei colpi di testa che quindi aggiungerei come pro perché di testa sono quasi tutte sue quando deve colpire di testa in area di rigore direi che bene o male la prende sempre lui poi la precisione a volte sì, a volte no però nel complesso è un giocatore affidabilissimo di testa e che può assegnarvi tanti rete su corner e quindi regalarvi tante belle emozioni il dribbling mi è piaciuto tanto dribbling, controllo del pallone, l'agilità del giocatore ci sono sicuramente è un giocatore che palla al piede, schilla è in grado anche di farle con una discreta velocità quindi di essere difficile da prevedere, da tenere, da marcare quindi molto bene anche perché ci mette comunque in mezzo il suo fisico la sua altezza e tutto quanto quindi da questo punto di vista secondo me è molto affidabile però d'altro lato ci metterei i primi negativi cioè come nel tiro il negativo secondo me è il piede debole perché quando tira di piede debole è un po' meh l'ho visto sbagliare parecchio il dribbling che problema c'ha? è tanto valido quanto è un problema non lo so, non dovrebbe esserlo però ogni tanto perde l'equilibrio e troncheggia in alcuni movimenti un po' sballottandosi e non essendo proprio ultra reattivo ci sono delle volte in cui si perde nel bicchier d'acqua dopo una skill o un movimento quindi tenete a mente che qualche volta non è proprio semplice usare dovuto alla sua altezza e al suo body type che a volte si muove perde un attimo l'attimo quindi non è propriamente un body type che mi fa impazzire d'altro lato passaggi giusti come li leggiamo quindi fa quello che deve fare fisicamente è un po' più peggio di quanto pensassi però neanche male insomma regge fisicamente se mettete le due regge se non mettete le due non regge mai quindi è molto manuale nella gestione della forza fisica però se la gestite bene se la cava la velocità l'ho asciuta alla fine perché corre ma non troppo nel senso che comunque è una buona corsa quando si tratta di prendere lo stacco lo prende anche però poi non raggiunge velocità così assurde soprattutto il controllo del pallone non è semplicissimo dovuto al suo body type a volte quando è tanto veloce quindi gestite con intelligenza e velocità perché poi qualche volta potrebbe perdere qualcosina le 5 skill si sentono tanto quanto si sente il trepido e debole è una bella carta stile intesa secondo me o falco o motore sta a voi io l'ho utilizzato molto con falco perché non avevo più motore non c'avevo voglia di acquistarlo ma con motore secondo me rende un po' meglio perché gli migliora un po' agilità e equilibrio rendendola un po' più decente nella gestione del pallone e vi dico che secondo me ne vale la pena sbloccarlo perché in Serie A comunque un bel link sia alla Roma e alla Serie A che così come agli inglesi e nel contempo è anche una carta regalata che vi fa sempre comodo non richiede così tanto tempo per sbloccarlo non è assolutamente competitivo ma è comunque una delle migliori opzioni che abbiamo nella Serie A personalmente preferisco in parte Muriel in parte no diciamo che se ha voglia di skillare preferisco lui se voglio un giocatore migliore Muriel perché Muriel è una gestione del pallone controllo muovenze velocità superiori e Ibra vabbè sta a un altro livello quindi fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente lo userei solo come punta non lo userai in altre posizioni noi ragazzi ci vediamo invece nel prossimo video bello a tutti bello a tutti